Questa settimana per l'anniversario dei miei genitori ho pensato di realizzare questa crostata molto delicata con una crema al latte e cioccolato bianco e con decorazione al pistacchio. Io sono Samantha e questo è il mio canale, benvenuto in Foodbase Amo 83. Se questo canale ti piace non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella. Cominciamo preparando una frolla classica, questa è la mia ricetta, io la trovo molto equilibrata e come sempre ho utilizzato il mio robot per prepararla, ma se non l'avete potete utilizzare la planetaria o impastare a mano. Iniziamo inserendo lo zucchero e una bustina di zucchero vanigliato, oppure potete sostituire lo zucchero vanigliato con la buccia grattugiata di limone. Polverizziamo 15 secondi con il turbo. Spostiamo le polveri sul fondo e inseriamo la farina, un pizzico di sale, un uovo intero e un tuorlo e infine 150 g di burro freddo. Selezioniamo la modalità impastare per 45 secondi. Una volta pronta la facciamo riposare in frigo almeno un'ora. Trascorso il tempo di riposo utilizziamo due terzi della frolla per preparare un guscio da 22-24 cm. Buccherelliamo la base e i lati con una forchetta e inforniamo a 180 gradi in forno ventilato per circa 30 minuti. Ora prepariamo la crema al latte e cioccolato bianco. Io ho utilizzato anche due fogli di gelatina per rendere la crema più compatta ma è facoltativo. Inoltre la preparo al microonde perché è più veloce però voi potete prepararla anche con metodo tradizionale. Mettiamo quindi in ammollo due fogli di gelatina in acqua fredda per circa 10 minuti. Intanto prepariamo la crema. Scaldiamo il latte in microonde almeno 4 minuti se freddo di frigo. In una ciotola inseriamo 40 g di amido di mais e 50 g di zucchero e una bustina di zucchero vanigliato. Questa è una crema senza glutine e senza uova. Mescoliamo un po' con il latte bollente fino a formare una cremina liscia senza grumi. Continuiamo inserendo tutto il latte bollente. Mescoliamo e trasferiamo in microonde. Nel mio ci sono voluti due minuti perché il latte era davvero molto caldo. Il tempo in microonde dipende dalla temperatura del latte e dalla potenza del vostro microonde quindi procedete un minuto per volta mescolando ogni volta che uscite la crema. Se è ancora troppo liquida inseritela in microonde per altri 30 secondi e procedete così finché non avrà la giusta consistenza. Quando la crema è ancora calda strizziamo la gelatina e la inseriamo al suo interno. Mescoliamo energicamente finché non si sarà sciolta completamente. Infine inseriamo sempre nella crema calda 100 g di cioccolato bianco e mescoliamo anche in questo caso finché non sarà completamente amalgamato alla crema. Componiamo il dolce inserendo sulla base della frolla la crema spalmabile al pistacchio senza glutine. Se vi interessa anche questa crema basta cliccare qui in alto sui video consigliati. Se non l'avete potete spalmarci uno strato di nutella o una crema al caramello salato. Inseriamo poi la crema al latte. Per la decorazione ho cotto un disco di frolla con incisi dei cuoricini e ho preparato le lettere che ho attaccato al disco con del miele. Infine ho completato la decorazione inserendo della granella di pistacchi nei bordi e nei cuoricini. Se alla base utilizzate la classica nutella potrete decorare con della granella di nocciole invece che con del pistacchio. Se questo video ti è piaciuto lascia un like. Io ti ringrazio fin da ora e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.